Continuiamo a parlare della profezia delle 70 settimane contenuta nel capitolo 9 del libro di Daniele. Se ci abbiamo fatto caso, l'angelo che porta la visione a Daniele è lo stesso che annuncerà a Maria la nascita del Salvatore e Gabriele. I Signori invia Gabriele e a Daniele per annunciare, con 490 anni di anticipo, il Messia, Salvatore. E lo stesso Gabriele completerà la sua opera annunciando a Maria la nascita di Gesù, il Salvatore atteso. La storia indica che l'eternità ha illuminato la vita degli uomini annunciando a essi la figura e la persona dell'unico vero Messia. Non ce ne sono altri. Persino i magi che giunsero a Betlemme dopo la nascita di Gesù erano seguanti i magi di dottrine religiose non giudaiche, ma erano stati comunque indirizzati da profetti ebraici. Ecco, parliamo oggi dei magi. I magi. Di questi personaggi che visitarono Gesù alla sua nascita abbiamo un accenno nel libro di Marco Polo il Milione, dove si dice che gli abitanti del castello di Hata Peristan in Persia raccontano che anticamente tre re di quella contrada andarono ad adorare un profeta che era nato e portarono tre offerte. Oro perché sapevano che era signore terreno, incenso perché sapevano che era il Dio, mirra perché sapevano che era eternale. Ecco, da qui nasce la leggenda che i magi furono re e furono tre. Il Vangelo non dice nulla sul numero dei magi. Si facendo al numero di tre persone nelle fonti apocrife, ma come giustamente osserva l'antropologo Massimo Centini, le testimonianze letterarie apocrife, per quanto interessanti e dotate in qualche caso di stimolanti occasioni per una più ampia lettura di certe narrazioni canoniche, spesso hanno trovato nelle disinvolte ricostruzioni di qualche autore una fortuna che obiettivamente non meritano. Falsamente attribuite a scrittori inesistenti o a personaggi storici che nulla realizzarono sull'argomento, sono spesso frutto di errate redazioni prodotte anche in mala fede da autori intenzionati ad avallare le loro visioni apologetiche. Questa è storia della Chiesa ed è così. Gli apocrifi furono in qualche modo scritti da personaggi che volevano far bella figura e si riferivano a grandi del passato, spesso a Pietro, a Giacomo, gli apostoli eccetera eccetera. Tutto falso. Comunque parleremo degli apocrifi proprio un riferimento alla stella dei magi e come dice Centini ci sono delle indicazioni anche buone ma il resto è solo leggenda. Molto più preciso invece è il professor Moiraghi il quale afferma la prima testimonianza storica che si colleghi in qualche modo ai magi e alle loro vicissitudini in connessione con una stella fu la frase attribuita a Balaam nell'Antico Testamento e si fa riferimento qui a un rinnegato profeta del popolo d'Israele che passato al soldo del nemico è chiamato a maledire il suo stesso popolo. Dio però non glielo permette anzi riuscirà soltanto il falso profeta ad annunciare con una profezia la venuta del Messia e questa si trova nel libro dei numeri capitolo 24 versetti da 15 a 17 ascoltiamo. Così dice Balaam figliuolo di Beor lo vedo ma non ora lo contemplo ma non vicino un astro sorge da Giacobbe e uno scettro si eleva da Israele. Centini afferma ancora uno stereotipo ricorrente considera i magi dei caldei in relazione al fatto che la magia fu un'arte naturalmente diffusa tra queste genti stanziate non lontane dal paese di Balaam. Ecco quindi ritorna questo personaggio Balaam e questa profezia di Balaam fu probabilmente trasmessa ai re di Assiria e poi ai re persiani e i magi provenivano dal territorio a nord del golfo persico dove oggi si trovano l'Iran e l'Afghanistan. Quindi i magi o almeno alcuni di essi sono stati identificati come i discendenti di Balaam e infatti ancora Moiraghi dice i magi sono stati definiti in tempi recenti come una sorta di clero superiore depositario di conoscenze a livello elevato ufficialmente erano pagani e stessa considerazione fa la scrittrice cristiana Ellen White che nel suo libro la speranza dell'uomo afferma questi uomini cioè i magi erano dei filosofi appartenevano a una classe influente numerosa composta in buon numero di nobili di ricchi e di sapienti desiderando una conoscenza più completa si rivolsero agli scritti ebraici. Nel loro paese si conservavano gelosamente gli scritti profetici che annunciavano la venuta di un maestro divino. Balaam era nel numero dei magi sempre la White ci dice che non tutti i magi erano persone dedicate al popolo al servizio del popolo alcuni invece erano delle persone per bene e sempre nel libro la speranza dell'uomo e la dice che dio ha sempre avuto un occhio di riguardo per i pagani perché anche tra i pagani ci sono stati uomini illuminati dalla fede e da dio stesso e quindi arriviamo al tema della stella ci sono riferimenti nei vari libri apocrifi di cui abbiamo parlato ma anche le fonti siriache riguardanti la profezia di Balaam erano state recuperate in epoca medievale e si pensava che degli esperti di astrologia i magusei osservando a turno il cielo cercavano di prepararsi alla comparsa di questa stella che era stata profetizzata proprio da Balaam e la stella apparve dice ancora Alan White la notte in cui la gloria di dio aveva inondato le colline di Betlemme i magi avevano scorto nel cielo una luce misteriosa essa aveva poi lasciato il posto a una stella luminosa che si spostava lentamente nel cielo non era una stella fissa o un pianeta dice la White cosa che viene accreditata in diversi ambienti ma non è così conclude quei savi non sapevano che quella stella era formata da una schiera di angeli risplendenti però avvertirono che essa aveva per loro una grande importanza e in effetti è un po strano che quel bagliore fosse prodotto da una pianeta o da una congiunzione di pianeti che sono fissi la stella invece dice il vangelo andava avanti si muoveva nel cielo si fermava riprendeva il suo cammino e nei vari libri apocrifi il vangelo dell'infanzia armeno ed anche in altri il vangelo dell'infanzia arabo siriaco che non sono attendibilissimi però si faccendo a questa stella come se fosse un angelo e venendo invece a terreni più solidi centini riporta che origene pensava che la stella di betlemme citata da matteo era una potenza dynamis in aspetto di stella ma la parola donami era un termine adottato anche per indicare gli angeli come risulta confermato da numerosi padri della chiesa ecco quindi molti attribuiscono questo chiarore non a un pianeta fisso come è stato fatto in epoche moderne ma a un gruppo di angeli o a un angelo in altri testi o addirittura allo spirito santo che guidavano i magi e la conclusione dello stesso centini è la seguente quell'evento luminoso per quanto animato da tutta una serie di figure che ne accentuavano la sacralità era il segno della vittoria della luce sulle tenebre che i magi pagani ufficializzarono con il riconoscimento tributato al messia con la presenza di figure inanimata all'interno dell'astro risulta ancora più evidente la difficoltà di collocare la sua stella nell'ambito di sistemi stellari mentre se ne consolida piuttosto il ruolo profetico nell'itinerario di salvezza è molto interessante quanto dice muiraghi e gli parla di un'era assiale che coincide con l'epoca in cui daniele scrive il suo libro e in due riprese gli ebrei vengono portati in paesi lontani da loro nel 721 con gli assiri e come abbiamo visto nel 605 avanti cristo con il regno di giuda questa volta da nabucco donosor e sembra che da strabone da altri personaggi della storia antica gli ebrei fossero sparsi su tutta la faccia della terra allora conosciuta in india bactriana in persia e addirittura in cina e i personaggi che vivevano in quel tempo contemporanei di daniele i grandi riformatori delle loro religioni per esempio zaratustra 600 avanti cristo buddha 560 480 confucio 550 480 e lao zè sono secondo storici coloro che danno una sterzata appunto ai loro ambiti pagani e li modificano in senso quasi messianico e in quel momento che si scopre che il messia deve arrivare sulla terra e questo secondo gli storici soprattutto secondo moiraghi fa capire perché alla betlemme giunsero i magi come dice ellen white questi avevano conservato nei loro scritti sacri le profezie che gli ebrei avevano comunicato loro quando erano stati dispersi sulla faccia della terra e probabilmente proprio daniele alla corte di nabucco donosor che è incaricato di spiegare il sogno incomprensibili di questo monarca riceve l'attenzione dei caldei anch'essi astronomi sapienti perché tutti erano stati condannati a morte dal momento in cui non seppero rivelare il sogno fatto da nabucco donosor daniele ci riuscì e salvò la vita a tutti credo a mio avviso che in quel momento i caldei sapienti chiesero a daniele informazioni più dettagliate sulle sue capacità profetiche e probabilmente con la profezia delle 70 settimane che abbiamo esaminato i caldei si convinsero che sarebbe giunto un messia dall'ambito ebraico come diceva in qualche modo balaam e possiamo concludere citando ancora moiraghi il quale afferma che al tempo del profeta daniele si crea una situazione etica e religiosa del tutto nuova e particolare filosofie e fedi si confrontarono per due o tre secoli fino finché non si manifestò gesù di nazareth crocifisso attorno al 30 dopo cristo ecco la bellezza e l'importanza della profezia delle 70 settimane se tutte le religioni studiassero oggi questa profezia non avrebbero più probabilmente conflitti almeno a livello teologico perché ognuno di questi ambiti islam ebraismo zoroastranesimo e tanti altri stanno tutti attendendo un messia che dovrà ritornare e il messia che è apparso sulla terra duemila e più anni fa era lui il cristo l'unico e come diceva daniele il rabbim cioè il messia di tutti che avrebbe portato pace a tutte le religioni così non è avvenuto ma quella profezia ancora oggi è strabiliante per la sua esattezza e vi invito a studiarla per conto vostro